ciao a tutti questo video sarebbe dovuto uscire ieri ma purtroppo ero troppo arrabbiato per farlo ieri ho giocato le finali regionali del campionato e abbiamo perso e abbiamo perso per un errore dell'abitro e questo ha fatto girare enormemente i coglioni però l'atmosfera è stata bellissima una bella esperienza ora che ci ripenso a mente fredda tante persone l'inno di italia cantato prima partita il tuo nome cantato durante riscaldamento tutto bello e adesso un mese di pausa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.